Non ce l'ha fatta ed è spirata nella notte tra domenica e lunedì l'anziana rimasta coinvolta in un tremendo incidente stradale a San Pietro Viminario domenica mattina. La vittima è Bruna Fortino, 88 anni, stava andando in cimitero a portare dei fiori e sistemare le tombe dei familiari quando i via Granze, per causa ancora da accertare la sua auto, si è scontrata frontalmente con una vettura guidata da un uomo di 41 anni che proveniva dal senso opposto di marcia. Un impiatto violentissimo che ha fatto accartocciare l'auto dell'anziana signora, soccorsa dai medici del 118 e portata d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono parse sin da subito gravissime. L'88enne è spirata dopo qualche ora, la data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore in attesa del nulla osta dell'autorità giudiziaria.